Buongiorno a tutti, benvenuti a questo secondo incontro del ciclo di webinar Agid-Crui. Io sono Giorgio Lambrosi, coordino gruppo ICT della Crui, la conferenza di rettore delle università italiane che per quanti, se mai ci fosse ancora bisogno di ricordarlo, è l'associazione delle università italiane e quindi è uno strumento di indirizzo e di coordinamento del sistema nel suo complesso. La conferenza dei rettori ha intrapreso una collaborazione con Agid proprio sui temi della trasformazione digitale e attraverso un protocollo d'intesa siglato ad agosto dello scorso anno e nell'ambito di questo protocollo d'intesa stiamo iniziando ad effettuare alcune iniziative di cui questo primo ciclo di webinar è sicuramente la prima che coinvolge in modo aperto tutte le pubbliche amministrazioni centrali, locali e le università e le centri di ricerca. Abbiamo cercato e voluto questo protocollo d'intesa perché pensiamo che l'università possa in qualche modo fungere da volano per la pubblica amministrazione e quindi in qualche modo l'università come pubblica amministrazione sia stessa che può fungere da traino per il sistema. Con me oggi per il gruppo ACT della Crui, Antonio Cisternino dell'Università di Pisa, Giovanni Barone Federico II, Valerio Paiusco dell'Università di Verona, Rosa Maria Sanrocco dell'Università di Bari, ma poi a distanza ci seguono ancora tutte le università che compongono questo gruppo e tutte le università che partecipano alla conferenza dei rettori. Prima di dare la parola a Stelio Pagnotta di Agid, vi do alcune informazioni di carattere pratico, diciamo allora intanto tra un argomento e l'altro sottoporremo nella chat a cui avete accesso e a cui state scrivendo copiosamente, vi sottoporremo dentro la chat dei brevissimi sondaggi per capire relativamente agli argomenti trattati come il sistema sta trattando i dati aperti nel suo complesso e quindi sulla base delle vostre risposte in tempo reale avremo questo spaccato e ne potremo discutere insieme. Quindi questa è la prima informazione. La seconda è poi alcune informazioni di carattere pratico, come avevamo detto già nel precedente webinar, pubblicheremo tutti i vostri contributi che vediamo nella chat, quindi nella Q&A, purché non siano offensivi e purché non siano anonimi, ma vedo che già avete preso dimestichezza con lo strumento e sempre nella chat pubblicheremo il link chiedendovi di compilare un feedback form su questo incontro. Compilare questo feedback form servirà a noi per capire come, se diciamo questa iniziativa ha centrato gli obiettivi, se può essere migliorata nei prossimi incontri, ma servirà anche per rilevare la vostra partecipazione ai fini dell'attestato di partecipazione che alcuni di voi hanno richiesto. Quindi se soprattutto, ma non solo, siete interessati all'attestato di partecipazione, è necessario compilare il feedback form che noi apriremo ad un certo punto e che rimarrà aperto mezz'ora oltre il webinar. Molti hanno scritto che non sono riusciti, insomma, la volta precedente a compilarlo, abbiamo riaperto selettivamente. In realtà non chiedeteci tra stasera, domani o dopodomani o settimana prossima di riaprirlo, cercate di partecipare in modo tale che possiamo tenere traccia della vostra partecipazione. Io per il momento non prendo altro tempo, vi ricordo che sul sito della Crui è già pubblicato il video integrale della precedente sessione, via via saranno pubblicate tutte quante le registrazioni, abbiamo pubblicato il materiale presentato e già abbiamo dato risposta ad alcune domande poste la volta scorsa. Chiaramente sono arrivate moltissime domande, abbiamo risposto alle prime, quindi a modifac e via via le troverete pubblicate sempre nella sezione del nostro sito. Allora, per il momento vi ringrazio della partecipazione, vedo collegate più di mille persone in questo momento, quindi insomma c'è grande interesse, do la parola a Stelio Pagnotta di Agid per introdurre al webinar, grazie. Sì, buongiorno a tutti, io sono Stelio Pagnotta di Agid e introdurberò pochissimo tempo perché poi il relatore del webinar sarà il dottor Ciasullo e rispetto a quanto ha detto Jürgen, aggiungo che siamo al secondo appuntamento di questo ciclo, nel corso del primo webinar, per chi l'ha già seguito, avevamo trattato il tema del piano triennale, oggi tratteremo il tema dei dati e della valorizzazione dei dati nella pubblica amministrazione, quindi si partirà sostanzialmente da una panoramica generale sui concetti di riutilizzo del dato, sulle polisi connesse ai dati, si approfondiranno i cataloghi nazionali quali dati.gov.it o geodati.gov.it per poi approfondire anche tutte le azioni connesse ai dati previste dal piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Come dicevo, non ruberò tanto tempo, passo quindi subito la parola al dottor Ciasullo che approfondirà il tema e declinerà il tema in base a quanto detto, quindi mi silenzio e passo la parola a lui. Buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione. Entriamo direttamente subito nel tema, non aggiungo altre considerazioni generali che hanno già fatto, insomma, i treventi precedenti. Noi parliamo oggi del ruolo della valorizzazione dei dati della pubblica amministrazione. Già questo termine valorizzazione ci dà un'idea di che siamo di fronte a qualche cosa che ha assunto negli anni un valore patrimoniale. sostanzialmente il dato è un bene a tutti gli effetti della pubblica amministrazione e sulla base di questo valore è possibile, ed è questo il tema del giorno, attivare delle ipotesi specifiche che appunto aiutano a creare valore e a dare ulteriore consistenza al dato stesso. Però noi non possiamo perdere di vista l'ambito istituzionale dei dati, ovvero la produzione dei dati nell'ambito della pubblica amministrazione avviene per fornire dei servizi, servizi all'utenza, quindi ai cittadini, imprese, professionisti e quant'altro, nell'ambito di compiti istituzionali definiti dalle norme. Quindi questo è un punto di partenza centrale che al di là di tutto quello che vedremo dopo deve essere ben presente perché chiaramente è il motivo per cui noi facciamo dell'attività sui dati della pubblica amministrazione. Quali sono le principali modalità, le principali aree di intervento in cui i dati della pubblica amministrazione trovano a esplicare i propri effetti? La condivisione e il riutilizzo dei dati. Sono due termini che troveremo molto spesso nelle norme, nelle norme che riguardano appunto la strategia dei dati della pubblica amministrazione, sono due policy su cui dobbiamo soffermarci per aiutare a esplicare valore al dato, efficienza al dato, perché il valore non è solo un fatto patrimoniale, un fatto economico, ma anche in termini di efficienza, di qualità e di erogazione dei servizi agli utenti. Quindi, la condivisione è il primo aspetto che riguarda l'amministrazione più da vicino. Scusami solo l'interruzione, non l'avevo detto, quando vedete il bollino rosso io metto la survey che vi chiediamo di compilare così poi alla fine del primo argomento la commentiamo insieme. Prego. Quindi, dicevo, sul termine condivisione cerchiamo di andare più da vicino. I destinatari della condivisione sono le pubbliche amministrazioni. Quando siamo all'interno di un circolo ben definito, l'oggetto della condivisione è qualunque dato della pubblica amministrazione. Ci sono talmente delle eccezioni, quali potrebbero essere i segreti di Stato, cose particolarmente delicate, ma insomma, diciamo, in generale, nel parlare di condivisione dei dati, parliamo di quasi tutti i dati della pubblica amministrazione, compreso dati che riguardano, possono riguardare la privacy. Per esempio, nel momento stesso in cui ci troviamo di fronte a una dichiarazione ISEE, per esempio, l'Inps deve fare una verifica dei redditi, quindi va a verificare un dato personale. Quindi questo non sarebbe possibile in un contesto al di fuori della pubblica amministrazione. Le finalità sono finalità istituzionali, quindi, diciamo, sono attività che servono a raggiungere i fini istituzionali di un'altra pubblica amministrazione. Quindi il mio dato viene condiviso con un'altra pubblica amministrazione affinché quest'ultima possa conseguire, possa raggiungere dei fini istituzionali. Il titolo è gratuito naturalmente, come avrei visto dalle norme, e il trasferimento dei dati non modifica naturalmente la titolarità del dato stesso. Nell'articolo 50 del CAD e poi ultimamente nel decreto legge 76-2020 convertito con la legge 120-2020, ovvero le norme sulla semplificazione, c'è molta attenzione su questo aspetto della condivisione dei dati. Una cosa particolarmente significativa del concetto di condivisione è che noi attuiamo, diciamo, indirettamente il principio Mansolli, ovvero sia noi siamo praticamente, evitiamo quindi di duplicare dati inutilmente, evitiamo di creare spese nel costruire nuove banche dati che in effetti di fronte a banche dati già esistenti che possiamo quindi utilizzare pienamente. Ecco che l'Inps, nell'esempio di prima, va a consultare, attraverso i meccanismi di interoperabilità, va a consultare la banca dati dell'Agenzia delle Entrate e sui redditi per verificare la correttezza delle dichiarazioni fatte dall'interessato e quindi non crea un duplicato, una nuova banca dati. Evitiamo naturalmente poi, questa è un'altra cosa importante, sempre nel base del principio Mansolli, evitiamo di chiedere al cittadino quindi, insomma, dati di cui l'amministrazione è già in possesso, quindi dando corpo ad una norma che in effetti risale a tantissimo tempo fa, ma oggi, come oggi, gli strumenti e la tecnologia consente di raggiungere questi obiettivi in modo più diretto e immediato. Uno sguardo veloce agli articoli 33 e 34 del decreto semplificazione, cioè in entrambi i casi noi stiamo parlando di disponibilità e interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e aggiungiamo anche dei concessionari di servizi pubblici, questa è una novità, una precisazione che è stata fatta in queste norme, con l'obiettivo di condividere il patrimonio informativo tra le pubbliche amministrazioni per fini istituzionali, quindi rientriamo in quello che dicevamo prima, anche l'articolo 34 che riguarda in particolare la piattaforma digitale nazionale dati è la norma precisa che in effetti l'obiettivo è favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo per finalità istituzionali, quindi mira alla semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, poi in qualche modo quello che stavamo dicendo prima. Alcuni punti d'attenzione in queste norme che appena citate viene prevista una responsabilità dirigenziale, anche nella possibilità di combinare sanzioni in caso di un adempimento da parte dei dirigenti rispetto all'obbligo di rendere disponibili i dati richiesti da altre amministrazioni sempre per lo svolgimento dei compiti istituzionali, l'obbligo per i concessionari di rendere disponibili i dati generati nella fornitura di servizi in concessione, quindi il concessionario è tenuto a rendere all'amministrazione concedente la disponibilità di questi dati, la quale poi l'amministrazione concedente a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni. Poi un aspetto praticamente diciamo tecnologico naturalmente che avviene attraverso come dicevamo prima la piattaforma digitale nazionale dati, ovvero la disponibilità di questi dati oggi come oggi è possibile attuarli attraverso dei meccanismi di API e quindi attraverso aspetti tecnologici di interoperabilità. Poi la norma si concentra che in fase di prima, alcuni aspetti in fase di prima applicazione, quindi l'esempio che dicevamo prima è il sistema informativo dell'ISEE, l'ANPR e poi alcune banche dati che dovranno essere individuate dal direttore dell'agenzia delle entrate. Ed è previsto sempre in queste norme l'adozione di un DPCM per la strategia nazionale dati, dove verranno individuali tipologie, limiti e finalità per la messa a disposizione dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono titolari le pubbliche amministrazioni. Qua un accenno velocissimo sulle basi dati di interesse nazionale. Sono disciplinate dall'articolo 60 del CAD, quello che voglio dire in questo caso sono banche dati, tra cui la principale ANPR, chiaramente funzionale a tante attività della pubblica amministrazione. Queste banche dati hanno una caratteristica di rilevanza sul fatto che sono al servizio di procedimenti amministrativi di competenze di altre pubbliche amministrazioni. Quindi noi nei nostri use case dobbiamo individuare questi meccanismi per far sì che questa disponibilità dei dati venga fatta nel miglior modo possibile, seguendo poi le regole di interoperabilità, in questo caso sulla base delle linee guida che Agid ha già reso, diciamo, in qualche modo disponibile, tenendo conto poi dei eventuali aggiornamenti che potranno essere portati avanti dopo l'adozione del DPCM che dicevamo prima, previsto dalle norme del decreto di semplificazione. Ora facciamo un piccolo parallelo dalla condivisione al riutilizzo dei dati. Qua entriamo già nel concetto degli open data. I destinatari del riutilizzo sono tutti, quindi non solo le pubbliche amministrazioni. L'oggetto è un po' più ristretto. Qua parliamo di dati pubblici, ovvero di dati conoscibili da chiunque. Qua quindi già escludiamo il classico esempio dei dati personali. Quindi già è una questione, abbiamo già una riduzione nell'ambito di attuazione, nell'ambito oggettivo dei dati che sono oggetto di questa policy. Ma altri casi possiamo riguardare i segreti, le privative industriali, i dati che possono, diciamo, alterare la libera concorrenza, i dati della sicurezza pubblica. Quindi ci sono una serie di dati che chiaramente non possono essere oggetto di riutilizzo. Le finalità non sono più finalità istituzionali come prima, ma possono essere finalità anche commerciali, ovvero sia io attraverso i dati della pubblica amministrazione dotati di una adeguata licenza che mi consente ciò, posso anche avviare un business, posso anche avviare un'attività commerciale, posso crearmi un'occasione redditizia e quindi dare un aspetto meramente economico alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. In questo caso, diciamo, in genere viene prevista la possibilità che i dati siano resi disponibili gratuitamente, ma è possibile applicare dei costi marginali e ci sono dei casi eccezionali che sono disciplinati alle norme di riferimento, in particolare le norme che recepiscono la direttiva Public Sector Information che è citata sotto. La licenza diventa l'elemento cruciale delle polisi di utilizzo, ovvero diventa l'elemento in base al quale si rendono disponibili disponibili e le modalità con cui il riutilizzatore, descrive i limiti con cui il riutilizzatore può appunto dare corso al riutilizzo dei dati stessi e in questo caso noi, già con le linee guida di qualche anno fa, promuoviamo l'utilizzo di una licenza che prevede come unico obbligo da parte del riutilizzatore l'attribuzione della titolarità del dato, ovvero indicare chi è, da dove ha preso quel dataset, da chi è il titolare di quel dataset, è l'unico obbligo che viene previsto da questo tipo di licenza che si chiama SisiBire, appartiene alla famiglia delle Creative Commons ed è quella che maggiormente va incontro alle polisi sia europee che nazionali in materia di riutilizzo dei dati. Qua un breve scorcio, il concetto di riutilizzo dei dati nasce già nell'agente digitale europea, in particolare in un'azione specifica del Digital Single Market rivolta appunto a creare condizioni favorevoli per lo sviluppo di servizi e poi trova un concreto applicazione nella direttiva su Public Sector Information, ovvero sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, la prima è datata da 2003, è stata integrata e modificata nel 2013, queste due direttive sono state recepite nel nostro ordinamento nazionale da queste due norme citate sotto, da questi decreti legislativi 2006 al giornato nel 2015. In questo caso vediamo come il concetto di riutilizzo si rinnova in queste norme, diventa diciamo un obbligo da parte dell'Europa dà agli stati membri che a volta nell'ordinamento nazionale questo obbligo viene poi diciamo girato, viene riversato verso le pubbliche amministrazioni e quindi viene messo un accento a questo concetto di riutilizzabilità e nella definizione del termine di utilizzo la norma, sempre il decreto legislativo 36-2006 come modificato nel 2015 descrive in modo molto compiuto che l'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisico-giuridiche ha fini commerciali o non commerciali, questo è il concetto di riutilizzo, quindi qua siamo in pieno del concetto open data, il paradigma di open data. Poi precisa anche questa definizione che lo scambio di documenti tra enti pubblici in attempimento dei loro compiti di servizio pubblico non costituisce riutilizzo e questa è la diciamo la controprova del fatto della policy di condivisione di cui accennavamo prima. Poi la norma, questo vuole lasciare questa slide solo per mettere in evidenza diciamo quelli che sono alcuni limiti di attuazione del concetto di riutilizzo, cioè i documenti esclusi dall'applicazione di questa norma e alcune norme di salvaguardia che naturalmente di cui occorre tener conto nell'ordinamento giuridico di un paese, quindi le norme sulla protezione dei dati personali, il diritto di autore, le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, proprietà industriale, quindi diciamo c'è una serie di limiti che chiaramente diciamo su cui appunto la polisi di riutilizzo, la polisi dell'open data non può essere applicata. Open data quindi dal punto di vista del codice dell'amministrazione digitale sono definiti dati di tipo aperto e rispondono a tre requisiti sostanziali, un requisito giuridico che è quello dato dalla licenza quindi dà la possibilità di attraverso un atto formale di poter consentire il riutilizzo da parte di chiunque per qualsiasi finalità. Poi c'è un requisito tecnologico e naturalmente parliamo di dati in formato aperto ovvero di dati in machine readable ovvero di dati che possono essere letti dalle macchine in modo nativo parliamo di dati di un requisito economico laddove viene previsto che questi dati vengano resi disponibili gratuitamente o poi fermo restando la possibilità di applicare costi marginali o dei casi eccezionali secondo quanto previsto dalla norma di riferimento. La coesistenza di questi tre requisiti dà origine al contesto al paradigma di open data. Naturalmente poi voglio attirare un attimo l'attenzione sul termine geodata c'è una categoria specifica di dati geografici di dati territoriali di dati geospaziali che hanno una disciplina specifica anche in questo caso derivante da una direttiva comunitaria la famosa direttiva Inspire che probabilmente molti di voi avranno già avuto modo di incrociare nella propria attività quindi i geodati rispondono fermo restando alcune le diversità dovute agli aspetti diciamo tecnici ma rispondono in pieno al paradigma degli open data e quindi per quanto riguarda gli aspetti appunto di queste la rispondenza di questi tre requisiti giuridico tecnologico ed economico l'anno scorso c'è una nuova direttiva europea sempre in termine in materia di Public Sector Information e questa volta hanno modificato il nome l'hanno proprio esplicitamente nominata direttiva relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico quindi diciamo hanno voluto accentuare questo aspetto di apertura dei dati e al conseguente riutilizzo questa direttiva è stata adottata appunto dal Comunità Europea nel 2019 e dovrà essere recebita nel nostro ordinamento entro luglio 2021 ci sono le attività che sono già in corso per una prima bozza è stata già resa disponibile ai competenti uffici per un'analisi di merito questa direttiva in sostanza amplia un po' diciamo il quadro dei dati per i quali appunto trova applicazione questa direttiva estende l'applicazione alle imprese di servizio pubblico e quindi in particolare settori dell'acqua e dell'energia trasporti e servizi postali poi prevede una disciplina più articolata per quanto riguarda le richieste di trattamento di riutilizzo da parte degli interessati da parte degli stakeholders prevede naturalmente diciamo l'ampio utilizzo di interfacce API e una trattazione specifica per i dati in tempo reale quindi per i dati dinamici estende l'ambito di applicazione anche ai dati della ricerca cosa che prima non era possibile ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici mentre poi c'è una particolare rilevanza viene data ad alcuni tipologi di dati definiti come dataset di elevato valore che hanno un notevole potenziale commerciale e quindi possono accelerare lo sviluppo di una gamma di servizi a valore aggiunto la direttiva non definisce questi non individua e non definisce questi dataset ma prevede un elenco di categorie tematiche che sono qui riportate e ha previsto poi la costituzione di un open data committee che sta lavorando a livello europeo che poi dovrà arrivare alla conclusione di definire un set di dati di elevato valore che rientrano in queste sei macro categorie presumibilmente i lavori arriveranno a conclusione io penso entro la prossima estate ma forse i primi risultati ci potrebbero essere nel prossimo mese di febbraio una cosa importante sulla tipologia dei dati geografici è necessario quindi la nuova direttiva lo prevede che ci sia un coordinamento tra le varie legislazioni settoriali e in particolare per quanto riguarda i dati geografici che dicevamo prima che rispondono alle regole di implementazione della direttiva INSPIRE sostanzialmente per quanto riguarda tutti gli aspetti relativi di interoperabilità di accesso ai dati di armonizzazione standardizzazione e fruibilità i dati geografici seguono le regole di implementazione della direttiva INSPIRE quindi gli standard previsti dalla direttiva INSPIRE mentre invece naturalmente rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva PSI le politiche di licensing e di tariffazione un ultimo tema che diciamo per non dimenticare ciò che prevede il CAD nell'articolo 52 si parla di accesso telematico e rutilizzo dei dati della pubblica amministrazione c'è il principio dell'open data by default ovvero i dati che vengono pubblicati sul web questo bisogna fare attenzione che le amministrazioni quindi pubblico con qualsiasi modalità ma senza l'espressa adozione di una licenza si intendono rilasciati come dati di tipo aperto questa è una norma importante bisogna fare attenzione diciamo che appunto venga indicata una licenza specifica e naturalmente a questo riguardo suggeriamo appunto promuoviamo l'uso l'utilizzo della licenza CC BY 4.0 l'ultima versione che tra l'altro è disponibile anche in italiano poi prevede sempre questa norma articolo 52 le clausole idonee a consentire l'utilizzo dei dati già nei capitolati d'appalto quindi già fin dall'inizio l'amministrazione pone l'obbligo in capo al fornitore diciamo di rendere i dati in una certa modalità e poi anche in questo caso è previsto come abbiamo visto prima per la condivisione anche in questo caso è previsto una responsabilità dirigenziale quindi una una valutazione della performance dirigenziale per le attività svolte dai dirigenti in volta a garantire appunto la disponibilità e l'utilizzo dei dati secondo questo paradigma io qua farei questa prima pausa in modo da avere un confronto con i commenti alle domande che vengono diciamo che sono state lanciate nel corso della presentazione sì allora un attimo io stacco la mia condivisione Jürgen sì un secondo che allora un attimo soltanto molto molto interessante qualcuno ci chiedeva di andare più lentamente ma evidentemente i temi sono tanti e tali che non si riesce altrimenti a stare nei tempi ma comunque sia diciamo che il lasceremo tutto il materiale poi sarà possibile rivedere la diciamo la registrazione allora avevamo posto chiedo alle persone presenti in studio di commentare allora la prima domanda che abbiamo posto è l'amministrazione attua politica di condivisione con dei dati con altre via per finità istituzionali in coerenza all'articolo 50 del CAD allora ci rispondono sì spesso il 34% sì ma molto raramente un altro 22% quindi la somma no il scusatemi il 12% no ma si sta organizzando un altro 11% questo è il primo diciamo su questa cosa io vien sì Antonio prego Antonio Cisterino di Pisa prego io credo che la questione sia delicata e complessa perché il problema è che come sempre in qualche modo gli aspetti normativi nella pubblica amministrazione vengono individuati come aspetti di adempimento e quindi cosa succede che in qualche modo è stata interpretata come un'altra delle cose da fare insieme a altre mille quindi molte amministrazioni in qualche modo si sono concentrati su fare una volta l'anno per dire l'ho fatto allora il problema invece ritengo che sia un problema di processo cioè l'unico modo e in effetti l'ultima slide il commento che si faceva sul CAD e sui fornitori va in quella direzione cioè cominciare a dire che diciamo per definizione il sistema tal dettagli pubblica utilizzando le famose API sul sito è un percorso che richiederà anni e in realtà le amministrazioni che secondo me faranno più fatica sono quelle più piccole perché in qualche modo richiede una capacità di tipo architetturale che in qualche modo è una competenza che va un po' sviluppata e che va al di là del mero adempimento tecnico della produzione del dato per cui diciamo secondo me come si vede poi anche nelle risposte che sono emerse in realtà diciamo ci stiamo preparando Antonio mentre stai commentando passerei direttamente alla seconda domanda per lo svolgimento delle proprie funzioni l'amministrazione utilizza le basi dati di interesse nazionale e qui ci dicono sì il 56% sì ma poco frequentemente il 31% no il 34% il 13% invece è interessante perché è duale cioè mentre quando si è a quelli che producono diciamo e il processo è complicato essere fruttori è comodo perché se uno ha bisogno di informazione poterla diciamo ottenere rapidamente aiuta il lavoro di tutti quindi questo qui in realtà è il motivo per cui dovremmo farlo sì le ultime due domande dello slot poi su queste chiaramente chiedo anche ad Argid sì di dare anche loro e tutti quanti presenti in studio di dare il proprio commento l'amministrazione attua politica è tesa a rendere disponibili i dati di tipo aperto sì 64% no 17% no ma ci stiamo organizzando il 19% e se l'amministrazione attua politica per rendere disponibili i dati di tipo aperto dove sono resi disponibili questi dati? sul proprio sito istituzionale chiaramente il 78% sul portale regionale il 5% altro poi lo scopriremo 16% insomma quindi questi sono i dati emersi dal primo slot di domande prego a me sembrano dati molto interessanti tra l'altro mi fanno intendere che ci sta già uno slancio verso le pollici di open data e questo è una cosa molto importante invece volevo ritornare un attimo come diceva il collega dell'Università di Pisa sulla questione della condivisione perché proprio condivido il suo pensiero perché in effetti ma al di là dell'adempimento non è una questione di adempimento la condivisione dei dati è una questione veramente essenziale per evitare per garantire l'efficienza per garantire l'univocità delle informazioni voi pensate all'imbarazzo in cui ci si trova quando io trovo sul web due fonti di dati sullo stesso argomento che mi danno delle indicazioni diverse quindi è imbarazzante per tutti quindi insomma diciamo la condivisione dei dati evita questi aspetti rende efficienza restituisce valore all'attività della pubblica amministrazione all'attività dei dipendenti dei funzionari di tutti coloro che si applicano in questa insomma nel proprio servizio sostanzialmente quindi è una questione che va a incidere sui processi e facilita poi anche il lavoro dell'amministrazione stessa del collega dell'amministrazione perché gli diamo la possibilità condividendo i nostri dati gli diamo la possibilità di accedere a informazioni che se no lui magari dovrebbe oltremodo diciamo rimediare con uno sforzo eccessivo insomma quindi non corrispondente alle finalità e poi insomma mi fa appunto diciamo piacere l'attenzione che viene fatta che viene posta agli open data immaginavo appunto la disponibilità forse sui propri siti istituzionali però teniamo conto appunto dell'aspetto di sussidiarietà che potrebbe essere messo in campo da parte delle regioni per esempio insomma che appunto potrebbero fornire anche quell'architettura a base tecnologica per consentire anche a piccole amministrazioni di esporre in modo adeguato i propri dataset quindi questa è una cosa importante questo principio di sussidiarietà è previsto già diciamo per quanto riguarda i dati geografici è stato messo appositamente già da qualche anno ma insomma lo si può applicare naturalmente anche ai dati alfamerici di carattere generale non so se volete fare qualche altro commento oppure io solo volevo aggiungere il fatto che comunque è un Giovanni Battista Università di Napoli Federico II prego volevo aggiungere solamente sottolineare più che altro che c'è una positività nel vedere che è più del 50% la popolazione che ha risposto alla domanda in maniera positiva cioè il sentire gli open data come un elemento fondamentale per lo meno tutti quelli che stanno partecipando gran parte di quelli che stanno partecipando la sentono come un'attività necessaria e fondamentale per il funzionamento e come appunto veniva detto prima riuscire a utilizzare i dati dove sono autoritativi cioè nel senso prendere i dati da dove vengono generati e dalla qualità del dato sia di quello che viene prodotto dall'ente e sia di quello che dopo noi andiamo a riprodurre cioè nel senso che se noi utilizziamo delle fonti autoritative buone noi riusciamo ad ottenere un dato nostro che sia consono con quelli che sono i servizi che dobbiamo erogare quello che appunto veniva detto prima cioè se io prendo reperisco dei dati nel momento in cui li ho reperiti quei dati sono già vecchi perché li ho reperiti mentre invece se io riesco a collegarmi a una banca dati istituzionale io riesco ad ottenere un risultato che è quello che devo ottenere per avere un ottimo servizio Sì tra l'altro Giovanni ricollegandomi a quello diceva Antonio prima nel suo intervento chiaramente sebbene cioè qui si vede chiaramente che sebbene vi sia ancora un po' di difficoltà nello svolgimento diciamo di politiche nel mettere in campo politiche di condizioni dei dati però se ne riconosce sicuramente l'utilità perché poi è il valore quindi insomma questo è un po' allora so che mi dicono dalla regia che ci sono tantissime domande in chat che alcune delle quali saranno lette e proviamo a rispondere all'ultimo e comunque l'impegno così come nel webinar precedente è di raccoglierle tutte per poi dare una risposta organica e condivisa con tutti quanti allora a questo punto io proseguirei con la presentazione mentre si fa la condivisione una cosa allora per le domande noi stiamo cercando di rispondere personalmente per evitare di intesare la chat e poi pubblichiamo le domande però cortesemente siccome non riusciamo a darle durante il seminario cioè dal punto cercate di darle in diciamo col contesto perché se no semplicemente un commento su un decreto legislativo che era magari opportuno su un certo punto in realtà diventa incomprensibile quindi non possiamo che eliminarlo perfetto grazie allora possiamo proseguire sì io ho ripristinato la condivisione e penso che sia visibile diciamo naturalmente io poi insomma al di là degli eventi insomma diciamo delle risposte che verranno date alle varie domande e quant'altro come veniva detto prima naturalmente come ufficio somminaggi insomma per qualsiasi problematica insomma relativa ci siamo naturalmente insomma contattabili via email via telefono per chiarimenti eventualmente necessari proseguo appunto a questo punto mettendo in evidenza che la chiave di una delle chiavi ma insomma forse quella principale che in qualche modo ci consente di arrivare alla fruibilità del dato è rappresentata dai metadati naturalmente i dati sono dislocati presso le varie amministrazioni che sono oltre 20.000 insomma diciamo in Italia e quindi diciamo rispecchiano situazioni variegate allora come possiamo fare per capire dove andare a cercare questi dati come cercarli come arrivarci a comprenderne l'essenza e avere l'informazione sull'esistenza di questi dati e in questo caso ci aiutano i metadati ovvero una serie di descrittori di questi dataset che vengono raccolti a livello locale poi a livello nazionale in un apposito catalogo quindi questo ci consente di dare di dare come dire una visione e agevolare una funzione principale che è quello diciamo della ricerca del dato quella della ricerca dell'informazione perché l'informazione diventa in questo caso essenziale ma lo era già nell'antichità perché in effetti insomma ci consente di conoscere che l'esistenza di un qualche cosa che a noi ci interessa e ci consente appunto di arrivarci in una modalità più agevole in questo Agid svolge un ruolo particolarmente significativo in quanto ha il compito di la implementazione e gestione dei due cataloghi nazionali in questo caso il catalogo datico vit per i dati aperti della pubblica amministrazione e il catalogo geodati il repertorio nazionale dei dati territoriali per i dati relativi all'informazione geospaziale e quindi Agid è responsabile di queste due infrastrutture le quali insomma ognuna delle quali ha un proprio profilo di metadatazione ovvero nel catalogo datico vit c'è il profilo denominato DCAT APIT DCAT sta per data catalog che è un catalogo europeo un vocabolario europeo AP application profile è un profilo definito a livello europeo l'estensione italiana è diciamo stata necessaria per aggiungere qualche elemento che per noi era importante l'Europa non l'aveva previsto però questo nelle regole del gioco dei profili di metadatazione è possibile chiaramente a livello nazionale fare delle estensioni che risultano essenziali per il nostro paese noi in particolare qua abbiamo aggiunto al profilo europeo abbiamo aggiunto la voce relativa all'amministrazione titolare per noi al di là del creatore del dataset al di là dell'altro tipo di informazione per noi è importante capire chi è il titolare del dataset quindi abbiamo aggiunto nel profilo nazionale questa specificità insieme ad altre variazioni e quindi questo profilo rappresenta il set di metadati di catalogo che noi prevediamo di raccogliere dalle amministrazioni invece per quanto riguarda sempre a proposito di dati generalisti dobbiamo utilizzare questo tipo di profilazione anche per quanto riguarda le basi dati della pubblica amministrazione di cosa si tratta velocemente qualcuno di voi ricorderà che qualche anno fa una norma prevedeva una raccolta di informazioni da parte di tutte le amministrazioni che dovevano comunicare ad Agit una serie di informazioni riguardanti i dati in proprio possesso questa attività è avvenuta in una modalità insieme chiaramente non organizzata come magari oggi potrebbe avvenire oggi però in effetti sono state raccolte diciamo informazioni relative a oltre 150.000 basi dati di competenza di circa 14.000 amministrazioni quindi questo è un patrimonio conoscitivo importante che magari non è organizzato benissimo dal punto di vista dei contenuti informativi che non rispondono naturalmente al profilo che abbiamo definito il DICAT-APT perché le informazioni erano state raccolte prima ancora che questo profilo venisse definito però diciamo non di meno questa banca dati rappresenta una forma informativa importante una forma conoscitiva importante per andare a rintrecciare dati che esistono nella pubblica amministrazione un'ultima parola su questo aspetto stiamo integrando questo set informativo delle basi dati all'interno dello stesso catalogo da RICOVIT in modo da avere una sola piattaforma che contempla entrambe le tipologie di informazioni i dati aperti e i dati in generale della pubblica amministrazione mentre invece nel catalogo geodati il profilo di metadattazione fa riferimento alle regole di implementazione della direttiva INSPIRE e cui abbiamo poi noi applicato anche in questo caso una estensione nazionale che abbiamo definito come RNDT perché anche in questo caso abbiamo avuto necessità di integrare quello che era il profilo europeo per dare sfogo ad alcune esigenze nazionali per dare soddisfazione ad alcune esigenze nazionali lo standard geodicattapidi di cui probabilmente avrete sentito parlare è quello che ci consente di rendere disponibili i dati geografici aperti documentati nel catalogo dei dati geografici di renderli disponibili e fruibili anche attraverso il catalogo dati GOVIT quindi di renderli disponibili anche attraverso la profilazione di cartapitti senza che l'amministrazione debba fare ulteriori attività quindi i dati geografici rispondenti alle regole di implementazione della direttiva INSPIRE e alle regole nazionali del repertorio vengono resi disponibili se appunto sono dati aperti anche attraverso il catalogo dati GOVIT facendo una conversione una mappatura tra i due profili questa conversione questa mappatura è stata resa possibile diciamo da un'attività svolta dal centro di ricerca della commissione europea che ha definito questa specifica geografica di cartapitti noi l'abbiamo implementata l'abbiamo messa in opera ed è già operativa l'approccio di questa di questa attività che è stata svolta è un approccio basato sulla interoperabilità e sul rispetto del principio guanzolli perché dal punto di vista normativo organizzativo noi possiamo dire che i dati geografici i dati geospaziali che comunque devono essere documentati nel catalogo relativo ai dati geografici anche se sono aperti vengono diciamo seguono questa regola quindi sono documentati nel catalogo secondo le regole nazionali e in conformità a quelle europee alle regole europee di implementazione della direttiva INSPIRE c'è un rispetto anche dell'interoperabilità tecnica e semantica in quanto appunto come dicevo prima il repertorio garantisce l'accesso ai dati territoriali aperti attraverso il catalogo dei dati aperti secondo il relativo standard senza creare ulteriori attività da parte dell'amministrazione in questo caso la semantica viene fatta appunto utilizzando la specifica del genere di CATAPI e quindi questo consente di creare un trade union tra i due cataloghi una interoperabilità concreta tra i due cataloghi perché questo approccio è necessario perché innanzitutto diciamo coloro che cercano dei dati geografici ancorché aperti o meno si rivolgono a un catalogo specializzato che è quello appunto del catalogo geodati naturalmente perché anche questo il profilo di metadattazione dei dati geografici non può essere diciamo messo in paragone col profilo dei dati alfanumerici generalisti perché appunto ci sono delle specificità se non altro le coordinate soltanto per dire l'esempio più banale ma non è solo quello e quindi diciamo la targa di dati necessita di alcune informazioni che facciano capire diciamo diano consistenza al dato stesso e queste tipologie di informazioni non sono presenti appunto nel profilo applicativo dei dati in senso generale poi nell'ambito dei dati geografici sia a livello europeo che a livello nazionale è prevista una coerenza tra la formazione del dato e l'erogazione del servizio in particolare dei servizi di rete quindi il catalogo geodati oltre a documentare i dati geografici documenta anche i servizi relativi servizi di accesso servizi di visualizzazione servizi di download quindi insomma c'è una coerenza tra queste due informazioni che verrebbe persa se noi il dato geografico aperto lo documentassimo solo da un'altra parte poi c'è un aspetto di monitoraggio l'Europa sostanzialmente dal punto di vista dell'applicazione della direttiva Inspire fa effetto monitoraggio sui cataloghi nazionali e quindi ciò che non trova nei cataloghi nazionali per l'Europa semplicemente non esiste sostanzialmente loro vedono solo quello che esiste nei cataloghi nazionali in ultimo ma messo alla fine ma diciamo chiaramente per non diciamo voler rendere questo aspetto il solito aspetto dell'adempimento come dicevamo prima si tratta di dare esecuzione a delle norme europee e nazionali che appunto ci dicono che i dati geografici devono essere documentati appunto in quel catalogo qual è il ruolo a questo punto del catalogo il ruolo principale direi per eccellenza è quello di agevolare la conoscenza dei dati disponibili presso la pubblica amministrazione il catalogo serve per cercare i dati quindi il catalogo serve per avere un punto unico di accesso a una molteplicità di dati sparpagliati in questo caso su tutto il territorio nazionale quindi sparpagliati su una serie di infrastrutture su una serie di siti di portali di competenza di pertinenza di tante amministrazioni quindi il catalogo nazionale raccoglie queste informazioni e consente un accesso unico per avere disponibilità di tutta questa mole di informazioni presente a livello nazionale oggi attualmente nel catalogo dei dati aperti abbiamo circa 36-37 mila data set documentati nel catalogo dei dati geografici mi sembra intorno ai 25 mila nel catalogo delle basi dati invece di come dicevo prima siamo oltre 150 mila data set documentati il catalogo funge in particolare per quanto riguarda il repertorio perché lo prevede la norma funge anche da pubblico registro perché dà ufficialità all'informazione che è documentata in quel catalogo promuove strategie di condivisione e riuso perché appunto attraverso la conoscenza di queste informazioni io posso chiedere a un'altra amministrazione la disponibilità di un certo dato oppure se sono un privato posso chiedere di riutilizzare un certo dato mi consente di verificare esigenze di pianificazione per erogare servizi integrati più amministrazioni quindi possono crearsi anche situazioni di collaborazione tra amministrazioni sulla base dell'esistenza di dati da una parte dall'altra quindi dati che si possono essere possono dar luogo a servizi integrati sono naturalmente uno strumento di supporto alle decisioni è uno strumento che mira anche a migliorare la qualità dei dati perché evidentemente nel momento in cui io metto una vetrina diciamo come avviene anche nei casi più banali insomma io cerco di mettere in vetrina qualche cosa che sia qualitativamente diciamo valido appetibile quindi qua subentra un discorso della qualità dei dati ho solo voluto riportare gli elementi significativi della qualità dei dati ovvero gli standard ISO di riferimento che noi utilizziamo quando si parla di qualità ma non entriamo appunto in questa tematica che potrebbe essere poi un ulteriore aspetto di approfondimento tutto questo quindi chiaramente il ruolo del catalogo ci porta a dire insomma a creare il presupposto per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico qua abbiamo probabilmente altri momenti di commenti e lascio a Jurgen sì grazie Gabriele allora in realtà qualcuno ci dice non ha ricevuto il link lo trovate nella Q&A tra i commenti pubblicati lì trovate tutti i link che abbiamo messo a questa breve survey e chiaramente potete continuare a partecipare io condivido adesso velocemente il diciamo le domande relativo a questo slot e poi subito dopo pubblico invece il link al feedback form che vi occorrerà per tra l'altro a noi per sapere se stiamo andando in direzione giusta e a voi anche per testimoniarle la vostra presenza ai fini del attestato di partecipazione vi chiedo quello di non compilarlo subito e di seguire anche perché poi lo lasceremo aperto ancora per circa 30 minuti dopo la diciamo il termine di questo incontro quindi vi chiedo cortesemente di compilarlo dopo allora ho già condiviso il primo blocco abbiamo chiesto alle università i dati dell'amministrazione sono documentati nel catalogo nazionale dati .gov .it sì il 38% no il 52% no ma il catalogo viene utilizzato per consultare i dati presenti un altro 23% quindi questa è la prima domanda la seconda l'amministrazione alimenta il repertorio nazionale dei dati territoriali disponibili su geodati .gov .it sì il 27% no il 61% no ma il catalogo viene utilizzato per consultare i dati un ulteriore 30-31% quindi queste erano le due domande che avevamo posto Jürgen sì un commento diciamo per appunto perché poi i dati non basta avere i dati ma poi bisogna anche saperli leggere no quindi allora bisogna sottolineare che circa metà del campione in questo caso è di coloro che hanno risposto hanno indicato di far parte università e ricerca no è chiaro per esempio sulla parte dei geodati che diciamo metà probabilmente non è che di mestiere pubblicano geodati non hanno funzione di gestire il territorio quindi in qualche modo bisogna sempre ricordarsi quando guardiamo queste risposte dobbiamo anche vedere che come si vede bene nella prima c'è una distribuzione tra pubbliche amministrazioni locali centrali e centri di ricerca e università che per funzione possono dare risposte differenti perché svolgono funzioni differenti sì sicuramente tra l'altro come vediamo dal grafico insomma l'università in questo caso università e pubblica amministrazione locale sono maggiormente presenti o rappresentati insomma in questi in questi nostri incontri questo sicuramente è un elemento oh scusa no no diciamo numericamente è assolutamente inevitabile nel senso che come numero ovviamente siamo più numerosi come volume di dati diciamo mi aspetto per esempio che diciamo pubblica amministrazione centrale pubblichi di più perché per funzioni istituzionali tipicamente lo fanno più che amministrazione locale prego Gabbiene no dicevo sicuramente sono bisogna tener conto appunto della distribuzione della degli uditori insomma sostanzialmente per capire insomma un po' per avere una valutazione un po' più adeguata delle risposte che emerse però mi piace insomma trovo con piacere questa questa azione che è stata fatta di queste domande nel corso del seminario perché ci consentono comunque di avere degli elementi informativi significativi e qua nella fattispecie non posso che sottolineare un po' a tutti i colleghi delle amministrazioni l'importanza del ruolo dei cataloghi perché evidente se io cerco qualche informazione qualche dato una cosa è appunto a fare una ricerca su migliaia di siti della pubblica amministrazione esistente insomma è un'altra cosa avere la disponibilità di un catalogo nazionale d'altronde quant'è che questo catalogo nazionale diventa particolarmente utile possiamo fare un esempio di Google evidentemente quando io cerco in una certa zona un ristorante una pizzeria una qualche cosa mi divolgo a Google e vedo insomma qual è il posto che mi interessa più vicino insomma più utile per me quello che mi dà maggiore sicurezza posso utilizzare uno strumento del genere naturalmente se io so cosa mi serve e so dove andarla a cercare chiaramente io non passo attraverso il catalogo quindi insomma posso dedicare la mia attenzione direttamente alla fonte informativa però naturalmente questo è un caso diciamo normale insomma che non toglie l'importanza del ruolo di un catalogo siccome il fatto che io conosca il ristorante dove voglio andare non toglie l'importanza del ruolo di uno strumento quale può essere appunto Google che è uno strumento di ricerca generalista che mi consente di andare a cercare certi tipi di informazioni quindi il catalogo è una cosa essenziale per la ricerca delle informazioni chiaramente il bene di cui parliamo non è il catalogo non è il metadato ma il bene di cui parliamo è il dataset poi che è disponibile presso la pubblica amministrazione che quindi va curato in modo particolare appunto ancorché come dicevamo prima quel dato nasce perché eroghiamo un servizio alla collettività insomma nasce un servizio ai cittadini alle imprese e quant'altro non so se ci sono altri commenti oppure io allora direi di proseguire nel frattempo mentre allora chiudo la condivisione di questo dei risultati abbiamo ancora poi un'ultima diciamo survey da sottoporvi che commenteremo sempre insieme mentre intanto pubblichiamo nuovamente quindi il contenuto volevo informarvi che ho appena messo disponibile nella chat il feedback form che come dicevo è necessario a noi per capire se questi incontri che abbiamo organizzato sono ben centrati se possiamo migliorare sicuramente tutto si può migliorare e soprattutto per rilevare anche la vostra partecipazione ai fini del diciamo attestato di partecipazione che tutti quanti voi o comunque alcuni di voi hanno chiesto quindi ve l'ho messo disponibile non è necessario che lo compiliate immediatamente vi chiedo invece di rimanere collegati e attenti anche perché rimarrà aperto ancora dopo la chiusura dell'incontro quindi ci sarà tempo per compilarlo in questo feedback form abbiamo fatto anche una domanda specifica sui temi di questo incontro nel senso che chiaramente questo è un primo ciclo colgo l'occasione per dire un primo ciclo di webinar che è un primo ciclo di webinar che noi trattiamo diciamo in modo abbastanza generale chiaramente dipendentemente poi da quello che voi indicherete nel feedback form potremmo anche ipotizzare così come abbiamo già annunciato di mettere in piedi ulteriori cicli di webinar su argomenti più specifici più verticali quindi insomma ci sono anche domande di questo genere se voi ci fate sapere su cosa gradireste un approfondimento possiamo ragionare meglio anche su queste cose allora siamo pronti per l'ultimo slot diciamo di questo incontro prego Gabriele ok grazie a questo punto volevo porre l'attenzione appunto su ciò che è stato previsto nel piano triennale a proposito dei dati come avete la volta scorsa l'argomento di questo webinar era stato il piano triennale in generale vediamo un attimino per quanto riguarda il capitolo dei dati cosa si prevede sono stati previsti sostanzialmente diciamo tre obiettivi specifici uno relativo alla condivisione e riutilizzo uno relativo alla qualità dei dati e uno relativo al concetto di valorizzazione in senso lato e vediamo per ognuno di questi obiettivi che diciamo posti nel piano triennale quali sono i risultati attesi che il piano triennale diciamo in qualche modo evidenzia un primo aspetto appunto il tema della condivisione quindi un aumento di base di dati di interesse nazionale che spongono i PI coerenti con il modello di interoperabilità e con i modelli di riferimento nazionale questo per favorire chiaramente per favorire la condivisione di questi dati da parte delle amministrazioni che poi necessitano di queste informazioni per le proprie attività istituzionali naturalmente si parte dalle basi dati di interesse nazionale perché come abbiamo detto prima sono basi dati che fondamentalmente rientrano possono rientrare in tante procedure amministrative in tanti procedimenti amministrativi e quindi la loro condivisione rappresenta un momento particolarmente significativo per aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione in generale naturalmente in che modo viene auspicata questa condivisione attraverso appunto oggi come oggi è possibile attraverso diciamo API coerenti con il modello di interoperabilità e questo fa diciamo sostanzialmente noi l'avevamo preparato prima comunque chiaramente si vede si vince che è abbinato con quanto previsto poi dal decreto semplificazione a questo riguardo poi c'è un aspetto insomma specifico che abbiamo voluto mettere in evidenza ovvero l'aumento di data set aperti di tipo dinamico allora la direttiva ultima sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico sui dati aperti insomma del 2019 non è stata ancora recepita verrà recepita entro luglio 2021 però possiamo già in qualche modo avviare qualche approccio a questa tipologia specifica di dati di tipo dinamico ovvero dati che si aggiornano in una modalità frequente dati in real time che sono trattati in modo specifico nell'ambito della direttiva allora ancorché non ancora recepita ma insomma vogliamo mettere l'accento su questa tipologia di dati e vogliamo cercare di stimolare l'aumento della disponibilità di questo tipo di dati su cui evidentemente diciamo è possibile veramente in questo caso costruire una serie di servizi a valore aggiunto tra l'altro adesso non è diciamo il tema insomma ma mi sarebbe piaciuto in questo caso accennare all'attività che stiamo svolgendo per quanto riguarda l'illuminazione pubblica dove insomma là sarebbe veramente insomma diciamo un'architettura tecnologica sulla base della quale sarebbe possibile poi a mettere dei sensori utilizzare questa infrastruttura per una serie di sensoristiche e dare poi una serie di dati dinamici disponibili sia alle amministrazioni sia per il riutilizzo in termini di open data ma diciamo magari questo potrebbe essere un tema di un approfondimento successivo come dicevamo prima poi l'altro aspetto appunto dettato dalle norme di ricevimento dell'obiettivo Inspire dell'aumento del numero di dataset disponibili nel contesto dell'applicazione della direttiva Inspire quindi parliamo appunto di dati geografici ed ecco che i due cataloghi quello dei dati aperti e quello dei dati geografici diventano due strumenti per monitorare queste diciamo queste attività queste risultanze e qua diciamo prossimamente vi chiederò in particolare a coloro che alimentano i cataloghi ma insomma poi naturalmente potrà essere la cosa potrà essere anche estesa di dare corso a questi adempimenti per far sì che questi risultati attesi possano trovare insomma una concretezza negli anni successivi insomma nel 2021-22 come previsto appunto dal piano triennale l'altro obiettivo è la qualità dei dati a questo riguardo dei dati e dei metadati abbiamo previsto come risultati attesi un aumento dei data set con metadati di qualità conformi agli standard europei e nazionali e l'altro elemento un aumento dei data set aperti conformi alle caratteristiche di qualità derivate dallo standard 25012 allora nel primo caso parliamo di metadati quindi parliamo di informazioni che residono nei cataloghi quindi poi per riflesso nel catalogo nazionale nel secondo caso parliamo di dati in senso stretto e quindi di la qualità dei dati facciamo riferimento allo standard ISO 25012 che individua le caratteristiche di qualità e in una slide precedente abbiamo visto che c'erano citati anche lo standard ISO 25024 per quanto riguarda i sistemi di misurazione di queste caratteristiche di qualità su questo poi anche qua su questo tema potrebbe essere poi insomma un aspetto da approfondire quindi potremmo poi eventualmente insomma ragionare casi specifici su questa su questa tematica l'ultimo obiettivo riguardava la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico in questo caso c'è un risultato atteso ovvero azioni coordinate tra le PA quei rendi con la strategia nazionale dati la quale strategia nazionale dati è oggetto specifico di attenzione come abbiamo visto prima del decreto semplificazioni quindi là è previsto l'adozione di un DPCM evidentemente le azioni che verranno messe in campo per il piano triennale saranno abbinate a quello che verrà definito in quel contesto di elaborazione su cui si è appena avviato un tavolo di lavoro presso il Ministero Innovazione e Semplificazione Innovazione e Digitalizzazione scusate proprio per definire questo DPCM previsto dal decreto semplificazione l'altro elemento vorremmo cercare di individuare anche questa nazione che diciamo di cui già si parla da un po' di tempo una unica licenza aperta identificata a livello nazionale perché ciò consentirebbe uno scambio dei dati una integrazione dei dati adeguata perché evidentemente se io prendo un dataset con una certa licenza e poi un altro dataset voglio fare un mashup di questi due set informativi ma sullo secondo dataset vige un altro tipo di licenza seppur aperta ma diciamo un altro tipo di licenza potrei avere delle serie difficoltà come ha fatto l'Europa la Commissione Europea in una comunicazione del scorso anno ha comunicato ha fatto presente che i propri dati aperti saranno sono potessi disponibili con un'unica licenza la CC BY 4.0 che per caso noi già dal 2016 proponiamo questa licenza come licenza di riferimento nazionale quindi invitiamo le amministrazioni a utilizzare questa licenza la CC BY 4.0 in casi eccezionali in casi particolari potrebbe essere valutata l'opportunità di utilizzare la licenza CC 0 la Creative Commons 0 ovvero quella che consente il pubblico dominio sostanzialmente ma invece la CC BY obbliga il riutilizzatore a citare la fonte informativa quindi questo è quello che viene previsto per quanto riguarda il piano triennale e volevo poi in queste slide conclusive fare un accenno alla strategia europea perché noi chiaramente ci collochiamo in un ambito di riferimento europeo e quindi insomma non possiamo non tener conto di questo aspetto diciamo velocemente insomma metto in evidenza che al di là degli aspetti di interoperabilità di disponibilità che pure sono naturalmente di cui abbiamo un po' parlato insomma ma che sono chiaramente all'attenzione dell'Europa però qua ci troviamo e cominciamo a trovarci di fronte a una serie di tematiche a una serie di criticità che sono qui insomma in qualche modo riportate ma sono presi da questo documento che vedete diciamo il documento COM 2020-66 quindi da questa comunicazione della Commissione europea qua si parla di squilibrio in termini di potere di mercato favorire l'accesso ai dati da parte di piccole e medie imprese instaurare una governance dei dati tener conto ridurre le dipendenze tecnologiche favorire gli aspetti del cloud guardare al tema delle competenze dell'alfabetizzazione per migliorare la capacità in generale dell'Europa ma dell'economia e delle società dei dati quindi garantire insomma l'esistenza di strumenti per esercitare i diritti quindi fornire alle persone strumenti per decidere come utilizzare i propri dati noi oggi siamo bombardati insomma noi in genere con il nostro telefonino rispondiamo sempre sì sì diamo autorizzazione a fare tutto ma diciamo forse è opportuno guardare anche questo aspetto ma naturalmente non in ultimo il tema della sicurezza più siamo sommersi da informazioni in maniera pervasiva vicina alle persone e inevitabilmente dobbiamo fare i conti con con temi come appunto la cyber security che naturalmente dobbiamo tener conto di questo aspetto nel momento in cui noi trattiamo appunto una mole di dati significativa quindi queste tematiche sono delle criticità evidenziate a livello europeo quindi non è solo un aspetto nazionale su cui l'Europa ha previsto una serie di azioni che per rispondere appunto a queste criticità evidenziate e sono riportate per tipologia di intervento che l'Europa prevede rispetto a questa tipologia volevo soffermare vado in chiusura su queste due azioni specifiche dalla parte da forzare i meccanismi di governance e quindi coinvolgendo come possibile soggetti privati e pubblici perché coinvolgendo i soggetti privati perché nel momento in cui noi parliamo di open data noi dobbiamo anche andare incontro all'esigenza delle imprese noi possiamo dire che in Italia dal punto di vista dell'offerta dei dati aperti siamo messi abbastanza bene quello che in effetti manca è il riutilizzo di questi dati da parte delle imprese in particolare perché se il tema come abbiamo visto all'inizio nel digital single market è quello di creare valori quello di creare economia attraverso il riutilizzo dei dati quindi aumentare aumentare l'occupazione diventa importante da parte delle imprese che questi dati vengano effettivamente riutilizzati per finalità commerciali quindi questo è un aspetto molto importante oltre naturalmente i temi di trasparenza e quant'altro che naturalmente l'open data si porta dietro anche la trasparenza naturalmente ma è importante appunto questi meccanismi per favorire questo aspetto molto significativo e poi l'Europa prevede questa creazione di uno spazio comune europeo per i dati della pubblica amministrazione la proposta di Agile ho avuto modo di rappresentare questo tipo di proposta in più di una circostanza sarebbe importante la creazione di uno specifico organismo nazionale di gestione e coordinamento quindi questo è un auspicio che faccio diciamo rivolgo ad Agile naturalmente a tutti i soggetti interessati alla definizione della strategia nazionale quindi questo organismo potrebbe poi occuparsi di promuovere intercettare la richiesta di utilizzo dei dati definire azioni coordinate tra le regioni o in senso diciamo anche per ecosistemi in senso di verticale evitando diciamo e coordinando dati che sono disponibili a livello centrale con dati che sono invece che nascono e che sono disponibili a livello locale in tema sanità in tema istruzione e quant'altro quindi insomma sono tanti gli aspetti che possono essere poi magari creare anche un osservatorio sull'effettivo di utilizzo dei dati per capire poi in effetti l'effetto che fa come diceva insomma una nota canzone di qualche anno fa che effetto fa questa polisi di open data a livello economico a livello sociale a livello ambientale e naturalmente poi in conclusione supportare la partecipazione allo spazio comune europeo ho aggiunto questa slide ma non la commentiamo solo per riportare le attività di Agide in materia e naturalmente insomma per che lascio insomma naturalmente insieme come materiale di consultazione per tutti quanti gli interessati io terminerei grazie Gabriele allora intanto che condivido i risultati di quest'ultimo diciamo slot di domande tu avevi introdotto un po' il tema della trasparenza adesso ho visto che c'erano delle domande in chat non so se nel frattempo Rosa San Rocco Un'Università di Bari hai potuto leggere qualche domanda se ci volevi in qualche modo dire qualcosa prego Rosa salve salve buongiorno a tutti sì ho letto diciamo diverse domande molte molte domande interessantissime quello che che viene fuori è soprattutto diciamo la grande difficoltà che gli enti hanno nel nell'interoperabilità dei sistemi nel rendere disponibili i dati cioè tutti quanti conosciamo l'importanza dell'avere i dati disponibili però molto spesso le difficoltà sono date proprio dal fatto che manca una strategia di di data governance nelle c'è una una grande richiesta di formazione di questo ma proprio a livello anche diciamo dirigenziale allora per quanto riguarda la trasparenza sì ho letto diverse diverse domande molti enti pubblici rendono disponibili dati informazioni la legge la norma dice il decreto legislativo 33 del 2013 in formato aperto perché diciamo per motivi di trasparenza appunto per la lotta alla corruzione ora in questo bisogna fare molta attenzione chiaramente perché per esempio non tutti i dati che vengono pubblicati nella sezione amministrazione trasparente delle pubbliche amministrazioni possono poi essere riutilizzati bisogna fare molta attenzione ci sono dei dati in formato aperto che possono essere riutilizzati però per esempio tutti i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi piuttosto che ad altri dati quelli non sono riutilizzabili quindi bisogna fare molta attenzione a non confondere i dati che vengono condivisi per essere poi rielaborati perché diciamo possono dare anche un aiuto alle decisioni degli enti oppure possono essere comunque condivisi e quelli che vengono diciamo pubblicati per motivi di trasparenza e perché ci sia un controllo pubblico sull'azione della pubblica amministrazione cioè non tutti i dati possono essere riutilizzati senza nessun tipo di controllo altra cosa molto importante è anche il diciamo il collegamento che c'è tra condivisione dei dati pubblicazione dei dati rendereli disponibili e la tutela dei dati personali questo è non tutto insomma può essere può essere pubblicato quindi grande attenzione bisogna fare quando si rendono disponibili i dati anche alla protezione dei dati personali che diciamo è di pari rango quindi va sempre tutelata prima la tutela delle persone e poi diciamo tutto il resto molto molto interessante credo che diciamo nelle risposte che si potranno dare poi alle domande che sono state poste verrà fuori un quadro abbastanza variegato è molto interessante molti spunti molti stimoli anche rispetto a futuri webinar che si possono si possono organizzare grazie grazie Rosa sì chiaramente tante domande e ciascuna di esse può essere a sua volta motivo di un approfondimento di un webinar a sé chiaramente non siamo a risorse infinite adesso stiamo cercando di in questo primo ciclo di raccogliere tutte le osservazioni e poi di cercare di insistere sui temi che possono sembrare di maggior interesse utilità intanto vi leggo l'ultima domanda di questo di questo diciamo l'ultimo sondaggio di questo blocco l'amministrazione ha di recente organizzato percorsi di formazione sul tema di dati aperti allora sì per tutto il personale il un attimo soltanto 19% sì ma solo per chi si occupa anzi no il 63% poi abbiamo no ma stiamo pensando di farlo un altro 10% e sì per tutto il personale il 9% quindi insomma 9% sì per tutto il personale sì ma solo per chi si occupa di ACT un altro 19% e poi no per il 63% e così no ma stiamo pensando di farlo un altro 10% quindi insomma il tema Gabriele il tema evidentemente è avvertito ma ancora non diciamo almeno sulla parte formativa no ancora siamo un po' lontani sì sicuramente occorre diciamo avviare delle azioni in questo senso dai commenti insomma qualche domanda che stavo cominciando a guardare in effetti c'è necessità di ulteriori chiarimenti adesso faccio un escursus così insomma un po' generico sì anche perché siamo nelle conclusioni quindi se ci sono domande o poi se ci sono cose diciamo che vogliamo raccogliere è questo il momento insomma allora il tema della trasparenza diciamo è un tema bisogna avere come dichiarare la visione che l'open data si porta dietro la trasparenza non è così viceversa perché trasparenza è un po' è un è una policy che mira a vedere come siamo amministrati mentre invece il tema di fondo dell'open data è quello di dare la possibilità di utilizzo dei dati per finalità anche commerciali quindi questo è un aspetto molto molto importante è evidente che nel momento in cui un dato è aperto e chiaramente io sto facendo anche trasparenza però la trasparenza in senso stretto è un qualche cosa che in qualche modo vuole garantire l'operato il cittadino rispetto all'operato della pubblica della pubblica amministrazione non faccio escursos storici su questo ma già da Kant insomma con il saggio per la pace dei popoli c'era il tema della trasparenza veniva evidenziato insomma diciamo per garantire appunto un giusto equilibrio nel paese insomma quindi sia tra vari paesi sia all'interno del paese sostanzialmente per far sì e quindi questo era uno strumento che andava in questa direzione invece vorrei spendere qualche ulteriore parola sul fatto delle quali dati possono essere dati e quali no c'è qualche domanda appunto mi chiedevano ma i dati anagrafici possono essere dati al concessionario sì ogni caso naturalmente c'ha la sua peculiarità evidentemente il dato anagrafico questo era un tema su cui ci si è anche lavorato negli anni passati il dato anagrafico serve per gestire anche la sicurezza diciamo noi diamo i dati anagrafici li diamo penso alle forze dell'ordine perché magari hanno bisogno di avere degli indirizzi per notificare delle persone delle cose degli atti a delle persone poi il dato anagrafico può essere utilizzato dal punto della società concessionaria per la fornitura di energia elettrica fornitura di gas o quant'altro quindi sicuramente si può dare accesso a quel tipo di dato ma attenzione io ti do l'indirizzo ma non è che ti posso darti diciamo anche per esempio lo stato civile per dire insomma oppure se insomma quindi ogni caso va analizzato nella sua complessità cioè non può esserci una regola generale il dato anagrafico va condiviso dipende insomma che nell'anagrafe non c'è solo nome, cognome indirizzo ma ci stanno anche informazioni di altro genere insomma quindi su cui è bene diciamo valutare di volta in volta che cosa effettivamente serve per 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 alla entità che mi chiede che mi chiede la condivisione di quel specifico dato poi naturalmente io alla società concessionaria gli darò solo i dati insomma dei cittadini che magari mi richiede forse non tutto il dataset oppure gli do tutto il dataset ma se per caso devo estendere quel servizio a tutto il territorio comunale quindi insomma ogni caso rappresenta poi ci sono una serie di norme specifiche che magari agiscono su determinate tipologie di dati proprio qualche giorno fa si parlava dei dati di normativa se potevano essere disponibili in open data o meno c'è stata insomma un'attività di valutazione insomma diciamo un solo di agita anche dell'avvocatura ed è emerso che era possibile in quanto l'attività che viene fatta da normativa di mettere aggiornare una norma e quindi fare questo lavoro intellettuale non è che ti sto dando il dato grezzo ma sto facendo anche un lavoro intellettuale di aggiornamento della norma di qualche anno fa che è stata aggiornata per effetto di altre norme bene questa cosa chiaramente potrebbe mettere in concorso potrebbe ledere la concorrenza la libera concorrenza perché ci sono entità che svolgono un lavoro del genere fortunatamente la normativa non fornisce diciamo come invece avviene per attività privatistiche non fornisce questo legame della norma con giurisprudenza dottrina e quant'altro quindi evidentemente cioè il fatto che questa normativa possa essere resa in open data non va a ledere attività di libera concorrenza quindi è possibile farlo ma tutto questo va analizzato poi da chi ha una competenza specifica su quel dominio quindi non può è difficile fare regole generali ecco è molto difficile fare regole generali bisogna guardare caso per caso anche nella cosa più banale come dicevamo prima dell'anagrafe poi mi guardo qualche altra domanda interessante allora quanto riguarda i dati in possesso della Piano nel caso di un'azienda sanitaria abbia pubblicato i dati e non abbia una licenza allora il fatto che uno diciamo trova un dataset pubblicato è chiaramente diciamo io posso naturalmente leggerlo posso naturalmente fare le mie analisi posso naturalmente farci le mie valutazioni certo presumo che i dati sanitari siano dati sanitari aggregati non siano dati sanitari relativi a una persona perché insomma non potrebbero essere pubblicati non vedo questa questa possibilità e anche in questo caso diciamo un dato pubblicato come un libro pubblicato io lo leggo ma ciò non significa che io poi ci posso fare delle azioni io trovo un libro pubblicato sul web lo posso leggere ma non significa che lo posso stampare e rivendere per far questo occorre una licenza specifica analogamente io non posso posso fare delle valutazioni delle statistiche delle analisi tutto quello che mi pare ma chiaramente non posso se non c'è una licenza specifica che mi autorizza in tal senso non posso diciamo crearmi un'attività non posso dare vendermi di qualche cosa che non mi appartiene se non c'è una licenza specifica subentra poi invece in questo caso l'ipotesi che dicevamo prima dell'open data by default allora in quel caso potrebbe esserci questo aspetto che ci dice sì posso utilizzarlo perché in effetti la pubblica amministrazione ha omesso di definire una licenza specifica per quella informazione e quindi in questo caso io applico la norma prevista dall'articolo 52 del CAD e quindi quel dato diventa utilizzabile sulla base del principio open data by default quindi questo diciamo è l'escursus il ragionamento che si può fare intorno a questo tipo di domanda poi vado ancora avanti insomma cerco di eventualmente un'altra domanda perché sono 12 e 30 così poi farei fare un giro di un giro anche alle altre persone presenti e poi così ci abbiamo alla conclusione o altrimenti in ogni caso la disponibilità pubblica del dato non presuppone anche la sua legibilità attraverso tecnologie informatiche e software non proprietari sì in effetti insomma il requisito tecnologico previsto dal CAD ci dice che deve essere un dato machine readable innanzitutto quindi stiamo parlando di dati digitali non stiamo parlando di dati cartacei poi nelle linee guida sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico fin dall'inizio nelle prime edizioni se non sbaglio era 2013 o 2014 ma adesso non ricordo con precisione ma insomma parliamo di un bel po' di anni fa si metteva l'accento su un data su dati su formati di dati che in qualche modo non richiedevano l'utilizzo di software specifici di software proprietari almeno quindi sono esclusi quando parliamo di sono esclusi naturalmente dati che richiedono una licenza particolare anche se oggi c'è stanza una disquisizione sul fatto dei file tipo di Excel che in effetti poi Microsoft ha varato anche una licenza che consente a certi tipi di file a un certo momento in poi scusa ne intervengo perché diciamo lato tecnico questo è un dibattito che è stato molto utile perché ha forzato tutti a partire da Microsoft a rilasciare i formati pubblici quindi in questo momento qua dei formati che usiamo siano quelli Office Open Office siano quelli Office sia il PDF in realtà tutte le major e il mondo open source hanno standardizzato e sono standard ISO quindi in qualche modo stiamo dicendo ma così è chiaro che diciamo aggiungendo un punto di vista tecnico mio cioè non è che siccome tu riesci a leggere il dato allora il dato è leggibile sono due concetti molto differenti le persone pensano che se esiste la specifica allora si risolve il problema no perché poi devi avere le conoscenze per riuscire a leggerlo quel dato e quindi in realtà il problema è molto più complesso di così quindi attenzione a non iper semplificarlo perché in realtà no 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 non volevo semplificarlo no no questo non è ovviamente questo diciamo chi aveva scritto le domande in qualche modo sembra che sia aperto allora abbiamo risolto un problema e dipende diciamo se tu hai il sorgente ma non lo sai leggere diciamo rimane chiuso anche se si fa rimane chiuso anche se formalmente aperto ma infatti il tema hai detto la parola giusta sostanzialmente le major si stanno adattando si sono adattate a quello che è il paradigma dell'open data e quindi per non restare fuori non restare esclusi da questa diciamo dalla possibilità appunto di fornire comunque di continuare a fornire il loro software anche per da questa fetta diciamo così di mercato comunque da questa fetta di interesse da parte degli stakeholders insomma e quindi il principio è appunto deve essere leggibile meccanicamente e deve essere in un formato che ne consente l'utilizzo senza la necessità di un intervento di un software proprietario insomma ecco io devo accedervi utilizzando un software gratuito sostanzialmente quindi questo diciamo aggiungerei diciamo visto che comunque siamo un po' anzi siamo tanti delle pubbliche amministrazioni per favore il formato DOC lo vogliamo dismettere cioè veramente perché alla fine noi ci raccontiamo i formati abbiamo convinto pure le major a fare i formati aperti sono pure standard però la pubblica amministrazione italiana troppo spesso continua a mettere il cavolo di formato DOC che è pure obsoleto quindi per favore appello da sottoscrivere tiriamo fuori almeno il formato DOC grazie va bene io ringrazio Gabriele di Agit Ciasullo in realtà ci sono tante tante domande che andrebbero lette però siamo già oltre il termine quindi magari così come nel precedente incontro le raccogliamo e poi via via le rendiamo pubbliche sul nostro sito qualcosa abbiamo già cominciato a pubblicare darei la parola a Giovanni Battista Barona e un inizio a Fetico II di Napoli per un ultimo commento poi Antonio Cisternino di Pisa e ci lasciamo dai un commento rapidissimo sull'ultima slide e sulle domande che sono giù si vede che la formazione è pochissima ed è rivolta maggiormente a chi poi dopo va a trattare in là secondo me è una delle cose più sbagliate fare addirittura nell'open data una chiusura dei dati e da solamente a chi poi dopo c'è una stretta indicazione dell'utilizzo quindi riuscire a fare una formazione a vari livelli e quindi essere perlomeno informativi su quello che sono l'esistenza del dato e si riesce ad ottenere un duplice risultato perché già grazie a questo webinar io già sto ricevendo un sacco di richieste di domande da parte della mia amministrazione sulla utilizzo e presenza di questi dati perché purtroppo non si è conoscenza dell'esistenza di questi strumenti e non essendo a conoscenza degli strumenti non vengono utilizzati ma se uno riesce ad utilizzarli ne vede la potenzialità e la potenza allora diventa promotore anche lui dell'aggiornamento di questi dati e quindi si crea un sistema virtuoso di popolamento delle basi dati e quindi dei dati essenziali del governo quindi secondo me è fondamentale dopo queste serie di risposte che si faccia una formazione di carattere così come è stato oggi perché in effetti abbiamo fatto una servolata su quelle che sono tutti gli argomenti senza troppo approfondire poi ognuno può andare a approfondire meglio quelle che sono le tematiche però si è visto anche che c'è una poca conoscenza di base un po' su tutto e sarebbe importante fare una formazione generalizzata in tutte le pubbliche amministrazioni su che cos'è a che serve e a cosa soprattutto di posservire perché solo nel momento in cui mi rendo conto che mi serve lo utilizzo e lo alimento se lo considero un elemento estraneo è come un elemento o la solida imposizione di dati di dover fare una trasparenza metto quel file odt come diceva Antonio un adempimento come dicevamo prima un adempimento lo metto là e lo lascio ma è una cosa che riesco a utilizzare a riutilizzare mi semplifica la vita e quindi per questo io lo alimento grazie Giovanni a questo punto darei la parola nuovamente ad Antonio per magari un ragionamento una non dico una provocazione ma insomma per te una domanda io ho letto in chat data lake questioni varie ma l'intelligenza artificiale in tutto ciò mi metto il cappello un po' da ricercatore dunque questa è una cosa che va detta cioè io credo che quella diciamo degli open data è un movimento io non credo che si possa parlare proprio di redempimento cioè un movimento in cui si ritiene che diciamo condividere i dati aiuta il sistema perché aiuta l'economia e magari le start up che altrimenti non avrebbero accesso a dei dati quindi la condivisione dei dati è sottesa dal fatto che condividere i dati in generale porta fenomeni positivi che chiaramente non è sempre vero perché in qualche modo la disponibilità dei dati può anche portare a identificare diciamo elementi negativi o non voluti per cui in qualche modo io penso che si tratti di un divenire dove diciamo tutto il quadro normativo e quindi poi il piano triennale che dovrebbe un po' essere il direttore dell'orchestra della pubblica amministrazione ti dice è importante farlo però non in modo necessariamente prescrittivo e con dei temi che si evolveranno nel tempo perché man mano che cresciamo dal punto di vista tecnologico in particolare sull'AI in realtà cambiano le cose cose che magari prima erano sacrosanti diventano problematiche per esempio esatto diciamo se uno prende allora quali sono gli effetti ci sono due fattori fondamentali allora diciamo i computer e gli algoritmi di apprendimento automatico rendono per la prima volta nella storia possibile analizzare una quantità spropositata dei dati e estrarre e osservare fenomeni che a colpo d'occhio non si vedono allora a questo punto bisogna porsi un problema cioè ma se poi quando uno guarda allo specchietto il dato vengono fuori delle cose inattese per esempio rivelando dati personali che magari non erano chiaramente facilmente individuali se uno li guardava nel loro complesso qui si pongono dei problemi l'altro fenomeno significativo a cui a oggi non abbiamo una risposta perché si parla di open data ma non abbiamo ancora messo il fattore tempo nel dato in realtà il fattore tempo cioè il fatto che una pubblica amministrazione rilasci open data nel tempo apre a questioni per esempio che non sono per niente ovvie per esempio se io sono una municipalizzata e rilascio i miei dati sui tempi medi di trasporto dei tram nella mia città e li pubblico quotidianamente qualcuno li può scaricare poiché è open data accumularli e fare un'analisi temporale che magari dopo due anni può essere usata per contestare le performance al politico di turno sulle puntualità dei tram quindi in qualche modo il rischio cioè no il rischio in realtà non è neanche un rischio è una questione che man mano che li produciamo produrremo nuove opportunità e nuovi problemi e quindi in qualche modo dovremo per forza poi aggiustare il tiro perché evidentemente ci saranno delle cose che diventeranno possibili laddove oggi non sono e il machine learning e l'intelligenza artificiale sono un elemento fondamentale perché quello che dà potere al dato non è il dato in sé ma è la correlazione tra il dato che consente di analizzare i fenomeni quindi più dati noi metteremo a disposizione più dovremo affrontare queste tensioni per esempio ora poi ci sarà un seminario dedicato diciamo comunque nella zona della privacy c'è il concetto di anonimità che GDPR pone che per esempio dice che se tu un dato è anonimo se anche diciamo integrandolo con altri dati resta anonimo non si riesce a capire di chi è il dato no? è chiaro che più dati produciamo più è facile intersecarli no? e quindi laddove anche un dato che può sembrare aggregato e quindi anonimo magari non lo diventa più perché attaccandolo ad altri dati consente per esclusione di capire cosa sta succedendo quindi ritengo che diciamo soprattutto il tema oggi dai la questione che abbiamo detto prima cioè dei formati che era un tema molto caldo diciamo fine anni 90 fino al 2008 2010 e dobbiamo muoverci avanti perché i temi si stanno spostando e l'intelligenza artificiale sarà uno dei terreni di battaglia per due motivi e qui chiudo il uno è il fatto che consentono di vedere cose che voi umani non vedreste due perché il usare algoritmi di intelligenza artificiale vuol dire produrre dati che sono la sintesi il subrogato di tantissimi dati e a questo punto c'è un valore in quella sintesi cioè avere a disposizione i dati che ne so io delle frodi come può fare Amazon si tratta di un file di pochi megabyte quindi un file relativamente piccolo che però è la sintesi di chissà quanti petabytes di informazioni analizzati nel tempo e ha un valore di per sé quindi in realtà bisognerà cominciare a individuare anche come si trattano i surrogati cioè il fatto che io ho speso soldi in corrente e processori ho analizzato tantissimi dati e ho prodotto un modello di intelligenza artificiale che chi ce l'ha ha un valore perché è la sintesi di tutti questi dati e quindi anche lì secondo me verranno fuori dei temi molto interessanti e su cui oggi le major stanno lavorando quindi oggi da quelli che potevano essere i temi sull'apertura dei formati eccetera bisogna presidiare questi altri perché sempre più spesso diventa motivo di esclusività per le major e che quindi ovviamente le major hanno aperto i formati perché tanto ormai la battaglia si è spostata altrove grazie Antonio io a questo punto abbiamo sforato i nostri canonici dieci minuti tenuto conto anche che abbiamo iniziato con un po' di ritardo per consentire a tutti di partecipare vi ringrazio ringrazio i colleghi di Agile ringrazio tutti i colleghi dell'università che partecipano al gruppo ACT della Cruy per questo incontro nuovamente a cui avete partecipato tutti quanti vi ricordo che vi ho messo nella chat il link per il feedback form necessario anche ai fini dell'attestato abbiamo pubblicato sul nostro sito già la registrazione materiale le prime FAQ elaborate insieme ad Agile relativamente alle vostre domande continueremo comunque a prendere tutte le tutte le domande che avete scritto nella chat e quindi anche su questo faremo un po' di analisi per pubblicare dei risultati per pubblicare delle risposte a cui non abbiamo potuto rispondere adesso vi ricordo che martedì prossimo abbiamo abbiamo la sessione dedicata alla sicurezza quindi vi aspettiamo tutti qui nuovamente martedì alle 11 vi saluto tutti grazie ancora e alla settimana prossima grazie grazie a tutti buona giornata grazie a tutti grazie a tutti